Ciao a tutti, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi prepariamo insieme le castagne in padella. Innanzitutto iniziamo ad incidere con un coltello la castagna. Dopodiché prendiamo un pentolino, ci versiamo dentro dell'acqua e lasciamo bollire per 25-30 minuti. Dopo riscaldiamo una padella antiaderente, ci versiamo dentro le castagne e lasciamo stare tutto per almeno 30 minuti. Dopo 30 minuti aggiungiamo il sale, lasciamo andare un minutino e le nostre castagne sono pronte. Le mettiamo in una ciotola coperte con un canovaccio in modo che così loro restano calde e man mano che le dobbiamo mangiare ne tiriamo fuori una. Adesso vi faccio vedere come si sbucciano facilmente. Guardate qui, quella fastidiosa pellicina non c'è più. Si sbucciano tranquillamente senza problemi. Se il video ti è piaciuto lascia un pollicino su, un bacione e al prossimo video. Se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, guarda questo video e pollicino su. Ciao!